non facciamo aggiungere qualche tavolo non facciamo aggiungere il tavolo ma qua lui ma qua lui io devo mangiare il terzo ci spostiamo tutti quanti ci spostiamo tutti quanti stai un poco poco nell'angolo non me la metta l'angolo non sta proprio nell'angolo allora un poco poco no 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 dove? ce la fate? ma non metto qua e tu e tu la e la stessa cosa e la stessa cosa non fa niente opla e qua ecco qua ma non è sulla e qua è un beve e qua ottima no è un bezzo a scalare possiamo pure fare in modo da che non so ecco mettete 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 e qua guardando i pad guardando i pad cittadini e qua vittorio ma quando succede? 25 al contrario non è un bezzo non è un bezzo non è un bezzo ma queste sono le vostre figlie lei figura lei è bella diritta più è un bezzo è un bezzo è un bezzo Grazie a tutti, grazie a tutti.